Manca pochissimo alla prima campanella, con una situazione paradossale. Nelle superiori pretesi ci sono i banchi e tutta l'attrezzatura anche per le nuove aule, ma quelli che mancano, in troppi casi, sono i professori, con il risultato che in quasi tutti gli istituti si partirà con un orario ridotto e provvisorio. L'avevamo detto, l'avevamo detto anche quando abbiamo incontrato il ministro, che noi stavamo facendo la nostra parte, che è quella relativa all'edilizia, la stavamo facendo fino in fondo, e che avevamo la preoccupazione che appunto saremmo trovati con nuove aule, ma averle vuote perché mancavano i professori. Purtroppo questa previsione si sta realizzando. Un problema è quello degli orari, che grava anche sul trasporto pubblico. Kappa ha pubblicato soltanto l'orario delle corse scolastiche per la prossima settimana, in attesa di avere il quadro completo di ingressi e uscite di tutte le scuole superiori. Intanto però il 14 settembre gli studenti troveranno in classe i banchi monoposto, e non quelli con le rotelle, cattedre e armadietti nuovi. Con oggi è stata fatta l'ultima consegna degli arredi scolastici richiesti dalla provincia per gli istituti superiori. 600 banchi, 700 seggiole, armadie e poltrone per le cattedre, per un totale di 130.000 euro di investimenti. In questo momento non ci sono notizie sul territorio, né da parte nostra, né da parte della protezione civile, sull'arrivo dei banchi del commissario Arcuri, quelli comprati dal governo, i cosiddetti banchi con le rotelle. Ciò nonostante noi eravamo preparati, perché questo lavoro di rinnovo dei banchi è un lavoro che facciamo ogni anno, soprattutto in un anno come questo, dove da lunedì prossimo ci saranno a disposizione ben 40 nuove aule, che la provincia ha realizzato per gli istituti della Scuola Superiore Pratese, che sta crescendo e che noi vogliamo accompagnare.